oggi pagato la cosa ? peroboi sino 12 2020 spera che è stato un po' di studiare con l'acqua, che non si può fare un po' di studiare con l'acqua. C'è un po' di studiare con l'acqua? C'è un po' di studiare con l'acqua? e qui l'oc non è arrivato a buoni e catticcià romba e cattaccia romba e cattaccia rion e cattaccia ron 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 e e e e e Posso che ci chiede la piccola, che ci hanno fatto ancora un tempo Semmo non loけど vedi, non ma più Non molto, ma Ma è sempre più che ho mai Che Che! C'è la piccola che andai disegnato? Mi ha detto che ho ancora più di me C'è ne bella buongsi abis bella lani, nampeng ma abis intuqo Ora be, sai kita tolto anche C'è ne bella buongsi abis intuqo 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 C'è ne bella buongsi abis